Mentre sta tornando alla normalità la situazione del lago di Massaciuccoli e del fiume Serchio rimangono critiche le condizioni in Garfagnana e Alta Versilia. 140 frane in pochi giorni, 200 sfollati, 7 frazioni isolate. Questa che vedete alle mie spalle è una delle oltre 100 frane che in questi giorni hanno interessato l'Alta Versilia e la Garfagnana. Pensate, in una sola notte sono caduti più di 270 mm di acqua che sommati al carico neve hanno provocato smottamenti come questo. Si lavora incessantemente per liberare le strade dalle frane e creare bypass. Sindaco, questo è uno dei punti più critici della zona? Sì, è quello che isola completamente le due frazioni di Bomezzana e di Farnocchia. Circa 600 persone sono a rischio isolamento. C'è un intervento per mantenere aperta almeno una corsia e per poter fare un senso unico alternato e per poter avere quindi un minimo di sicurezza. Quali sono le modalità di intervento? Le modalità di intervento sono quelle di un alleggerimento di tutto il carico forestale. Questo aiuta sicuramente la stabilità del versante per poi aggredirlo con gli escavatori e con i ragni escavatori, modellando e recuperando le stabilità dello stesso. Intanto si contano i danni delle frane e delle alluvioni. I 20 milioni di euro inizialmente ipotizzati non bastano. La regione toscana ha confermato un investimento di 54 milioni di euro, ma si attendono fondi anche dallo Stato. Evanuti, SkyTG24, Stazzema, Lucca. Le acque del lago Massaciuccoli sono di nuovo calme. Il sole è tornato e il braccio destro del capo della protezione civile Guido Bertolaso, Bernardo De Bernardinis, mette nero su bianco. L'emergenza è finita, resta il preallarme, ma il peggio è davvero passato. Si è calmato finalmente questo lago? Sembra di sì, sembra. So che era controllato, perciò siamo tranquilli. Sono venuto a vedere che è un istrabuzzi, perché se no mi allaga tutto. Quando c'è questi venti qui, preoccupazioni c'è sempre. La tensione in queste ore si sposta nell'alta Garfagnana, lì dove continua a piovere ed il pericolo sono le frane. Adesso qui c'è da gestire il post-emergenza. Inizia il lavoro del post-emergenza, della ricostruzione, la ricostruzione definitiva degli argini, la messa in sicurezza del sistema idraulico, la ricostruzione della difesa del suolo in merito alle frane. Abbiamo già calcolato questa ricostruzione, chiamiamola pubblica, in circa 40 milioni di euro, a cui vanno aggiunti i danni privati. Raffaella Cesaroni, Sky TG24, Torre del Lago, Lucca.